Oggi torna fruibile questa parte importante di Pescara. Sì, la Pescara storica, la Pescara della casa di Gabriele D'Annunzio, del Circo Laternino, che torna ad essere riqualificata grazie al lavoro del Comune di Pescara per circa 120.000 euro, con l'accordo dei residenti, ma anche di chi opera qui a livello commerciale, che ci ha chiesto di fare interventi anche per un maggior controllo della pedonalizzazione di questa zona. Interventi che stiamo portando avanti, manca ancora un po' di segnaletica, però già ci sono le chiusure e soprattutto sta arrivando una telecamera nell'unico varco di accesso consentito a questa zona. Ci tenevamo tantissimo, come abbiamo sempre specificato, è la manutenzione la prima opera pubblica di questa amministrazione. Quali sono stati gli interventi che avete portato avanti in questa zona? Intanto tutti ricordano le buche che c'erano in questa zona di Pescara, non era sicuramente adeguato anche a livello storico di questa città. Abbiamo mantenuto la pavimentazione del 1500, l'unica proprio vicina a casa d'annunzio, è la sede della sovrintendenza, che abbiamo anche tutelato con degli appositi paletti dissuasori per evitare il passaggio di autovetture. E poi abbiamo sostituito una pietra profondamente sbagliata per questa zona, neanche locale, che era la pietra di Brac, che era presente appunto su Corso Mantone e sulle altre strade, via Corfinio e tante altre. Grazie a tutti.